Siamo pronti? Su Infinity, in arrivo a giugno. Che diavolo è questo? Bene, entriamo in azione. Chi è questo Gatsby? Sono io Gatsby. Vuoi giocare? Sì, signore. Vi dichiaro in arresto. Ti sparo dritto in faccia. Guarda che non mi fai paura. È arrivato il momento di negoziare. Io non ho molto altro da offrire. Papà, sono io. Cos'hai combinato? Non preoccuparti. Finalmente sei tornata. Ammettilo! Lei ascolta! Non voglio essere coinvolto. Seguitemi bene. No. Una didattina. No. No. Autore dei sorrisi